Il giorno del suo settantesimo compleanno, commisso probabilmente lo immaginava un po' più sereno. Ribrilli ha fatto gli auguri via social, così come la Fiorentina, ma il silenzio del magnate italo-americano dopo Verona ha fatto rumore e di solito affidava un suo commento almeno ai social. Ma il momento è particolare, la seconda sconfitta di fila che ha fatto precipitare la squadra al decimo posto ha aperto una mini-crisi. Il filotto positivo di ottobre aveva illuso un po' tutti, il decimo posto intristisce l'ambiente. I 500 temerari di Cagliari avevano comunque applaudito la squadra, i 4000 di Verona hanno fischiato i giocatori, è la prima volta che c'è una manifestazione di dissenso dall'arrivo di commisso. Di qualche muguglio il franchiare invece già stato oggetto chiesa, il suo ormai è un caso, albente Godi si è scaldato ma non se l'è sentita di entrare per Rida con Montella che nel dopogara inizialmente aveva spiegato di non averlo visto pronto né fisicamente né mentalmente. Poi ha un po' corretto il tiro spiegando che questo concetto vale un po' per tutti i giocatori ma resta il fatto che chiesa non è contento, su questo ci sono pochi dubbi. Sicuramente il fastidio fisico c'è, Pradea ha parlato di problemi al pube, si tratterebbe in realtà di guai all'aduttore. Resta il fatto che sei giorni fa contro l'Armenia il nazionale aveva fatto il fenomeno e a Verona è rimasto a guardare anche perché il campo era pesante. E ora? Sabato contro il Lecce giocherà? Probabilmente sì, ma il nocciolo della questione resta un altro. Quando la Fiorentina prima di Natale gli proporrà il rinnovo del contratto? Il padre procuratore almeno si siederà a quel tavolo?